Asbin Hotel, come era Angel Dust da vivo? Asbin Hotel ad oggi è diventata una serie amata e conosciuta da tutti, ma sono anni che Vipsy pubblica sul suo account Twitter bozzetti dei suoi personaggi. Spulciando tra i suoi vecchi tweet del 2016, abbiamo trovato questa immagine che ritrae Angel Dust, o meglio Anthony, quando era ancora nella sua forma umana. Forse ad oggi potrebbe non essere più canon con la nuova versione di Asbin Hotel, però noi lo troviamo estremamente adorabile. Ve lo aspettavate diverso?